Il tennis italiano è una trama fitta di storie e talenti, e tra le figure centrali di questo racconto spicca Filippo Volandri. La sua è una narrazione di determinazione, impegno e passione, intessuta sin dall'infanzia nelle piste polverose del Tennis Club Livorno. Alle radici di questa passione vi è una famiglia legata indissolubilmente al tennis, il maestro federale Piero Cocchella e la zia maestra nazionale Susanna Paoletti hanno infuso in lui la passione, mentre la sorella Veronica e il padre, presidente del Tennis Club Livorno, hanno contribuito a consolidare questo amore per lo sport. Volandri ha iniziato a calpestare i campi da gioco dei Futures italiani nel lontano 1997, aprendo il suo percorso nel circuito professionistico. I primi passi sono stati intrisi di sfide, con alcune sconfitte che non hanno fatto altro che alimentare la sua determinazione. Il 1998 lo ha visto emergere, conquistando il suo primo trofeo al Futures Italy F-18, un trampolino di lancio che lo ha proiettato tra i top 300 del ranking ATP. Il percorso di Volandri è stato caratterizzato da alti e bassi, con momenti di trionfo e di difficoltà che hanno forgiato la sua resilienza. Il 2003 ha rappresentato un momento cruciale, nonostante gli ostacoli legati agli infortuni. Ha conquistato tappe fondamentali, come la finale nel Challenger di Roma, riguadagnando un posto nei primi 200 del ranking ATP. Il punto più alto della sua carriera è stato il 2004, quando ha catturato l'attenzione internazionale al Masters di Monte Carlo. Ha sconfitto nomi illustri come Radek Stepanek, David Nelbendian e Magnus Norman, entrando nei primi 100 del ranking. Ha proseguito questo momento di gloria raggiungendo la finale al torneo ATP di Zankt-Polten, conquistando così il suo primo titolo del circuito maggiore. Il 2006 ha portato ulteriori successi, tra cui il secondo titolo ATP conquistato a Palermo, un traguardo che ha inciso profondamente sulla sua carriera. Tuttavia, il percorso di un atleta è segnato anche da sfide e momenti critici. Il 2009 è stato un anno difficile, segnato da una squalifica per doping e infortuni che hanno messo alla prova la sua tenacia. Il 2010 ha visto Volandri rinascere, conquistando trofei nei tornei Challenger e rientrando tra i primi 100 del ranking mondiale. La sua resilienza e determinazione sono emerse chiaramente in questa fase della sua carriera. La fine della sua carriera professionale nel 2016 ha segnato la conclusione di un capitolo straordinario nel tennis italiano. Il suo impatto sullo sport non può essere misurato solo in trofei, ma anche nell'ascito di dedizione, passione e forza d'animo che ha trasmesso alle generazioni future di tennisti italiani. Filippo Volandri, con il suo coraggio e la sua determinazione, ha scritto una pagina indelebile nella storia del tennis italiano, lasciando dietro di sé un'eredità inestimabile che continuerà a ispirare e influenzare le generazioni future di appassionati di tennis.